6 ettari di bosco sono dal 1886 proprietà collettiva dei frazionisti di Belvedere. Un tempo erano fulcro della piccola economia locale, ma sono stati dimenticati e soppiantati dall'economia industriale. Grazie ai volontari che l'hanno nuovamente resa accessibile, l'area è diventata un'aula all'aperto per scoprire il valore della biodiversità, per ricordare chi eravamo e soprattutto per indicare ai piccoli la direzione da prendere. Grazie a tutti.